Allora, la premessa è divertiamoci perché se noi siamo qui è perché o WordPress ci lavoriamo o ci divertiamo, di solito sono tutte e due, quindi il concetto di adesso è ci divertiamo perché adesso vedremo, proverò a fare un po' di live coding, sai, siccome lo show va avanti vediamo cosa viene fuori, comunque ecco, divertiamoci un po' è il sottotitolo, però un attimo io quando faccio questo genere di talk riesco sempre a fare un'introduzione su me stesso un po' anche lunga a quanto pare, però vedrò di essere un po' breve, sono il collega del Genio quindi non mi ripeto su quello che facciamo, sono volontario a Mozilla oramai da tre anni, sono anche Mozilla rappresentative per l'Italia, mi occupo per Mozilla di organizzazioni eventi, reclutamento, promozione, sviluppo, partecio a diversi eventi internazionali e in l'ambito Mozilla mi occupo anche dei progetti che riguardano WordPress, quindi sviluppo dei temi, plugin, tutto quello sulle nuove tecnologie, servizi eccetera. Scrivo anche per chi mi era Revo, per il Network & More e su Tech Economy ci troverete anche un articolo sulla community WordPress italiana che ho scritto qualche mese fa con l'aiuto di Luca Sartoni che sta in giro a fare foto, sono un utente Linux, questo fa già capire un po', stiamo parlando, core contributor da un anno a quanto pare, qualche patch ti permette già di dire essere sono core contributor e quindi spero che tanti oggi con la scusa di diventare core contributor ti divertiranno a fare anche qualche patch. E recentemente diciamo dal mese scorso abbiamo fondato pure questa associazione italiana di, abbiamo chiamato industria di software libero, fatta di professionisti di aziende che lavorano con il software libero, fanno promozione eccetera eccetera, però sul sito avete tutti i riferimenti, però questa è la mia introduzione per farvi capire con chi avete davanti, insomma uno che oramai dal 2008 si diverte a contribuire a progetti open source diciamo di tutti i tipi, tant'è che la maggior parte delle volte pure ieri mi sono detto al contributor day io contribuisco a WordPress, contribuisco a Mozilla ma tu c'hai anche una vita privata? Sì, tra le altre cose. Quindi diciamo sono un po' famoso anche, basta vedere sul mio GitHub quante ne faccio insomma, tra Twitter eccetera, quindi diciamo che vedo il contribuire come non è una cosa, non è tanto faccio la mia parte perché ho ricevuto tanto, ma anche perché mi piace e perché imparo anche a utilizzare meglio la tecnologia con cui ci campo, che non è un dettaglio da poco. Quindi di solito introduco sempre con questa vignetta, per chi non conosce comment strip, seguitelo su Twitter Facebook, non ve ne perdete una perché ne esce una al giorno ed è una droga. Il concetto di base qual è? Come vediamo qui, come è stato parlato bene oggi e per chi c'era il contributor day, contribuire non significa mettere il più uno su stack overflow. Quanti drogati ci sono di stack overflow qui perché il termine giusto è drogati? Ah non alzate la mano eh? Dai, ci stanno qui. Come si fanno a utilizzare stack overflow? Dai. Ecco, però non basta mettere il più uno o fare il copy and colla per contribuire. C'è sempre quello che ti permette di fare il salto di qualità e di dire lì c'è un mio pezzo. Per dire se voi andate agli uffici di Mozilla a San Francisco c'è un monumento dedicato a tutti i volontari con i nomi, tra cui c'è il mio. 5.000 nomi c'è anche il mio. Di solito mi dicono ah il tuo nome è sul monumento e neanche sei morto. Grazie. Però insomma, sai, almeno c'è tanta soddisfazione. Non tanto della battuta però. Quindi siamo tutti pronti adesso per cominciare. Allora, io quindi vorrei partire con un attimo con un piccolo recap di quello che faremo in queste mezz'ora. Parleremo di ticket. Quindi immagino, credo che ci sia qualche drogato di kitab, non ditemi che sono solo io, dai. Non alzate le mani ai pubbapigri. Ah c'è qualcuno. Quindi sapete cosa significa aprire un ticket? Forse sapete anche cosa significa rispondere a un ticket e forse sapete anche cosa significa fixare un ticket. Però la parte più bella è quando qualcun altro ottoposto ti fixa il ticket e ti arriva la par request e quella è la parte più interessante. E oggi vedremo di stare dall'altro lato. Ambiente di lavoro è importantissimo. Ognuno c'è il suo. Ho visto portai tutti i tipi. Il mio come si dica è un Linux anche se c'è scritto però ognuno c'è il suo. E senza il suo non riesce a lavorare. E oggi vedremo un ambiente di lavoro tramite Vagrant che vi permetterà nel giro di mezz'ora, perché bisogna dargli il tempo di scaricare tutto, di avere il vostro ambiente di lavoro per WordPress senza dover stare a soffrire. Che non è cosa da poco. Keywords. Perché sono molto importanti. Un ticket senza qualche label che ti dice la priorità di cosa riguarda. Quando ti ritrovi con un label WordPress in cui ci sono migliaia, migliaia, migliaia di ticket, cercare non è semplice. E quindi le keywords oggi vedremo alcune di queste. Poi faremo ovviamente una patch in diretta. Proveremo anche a caricarla. Ah sì, l'ho scritto. E poi vi lascerò qualche materiale di riferimento. Le slide sono già su internet, eccetera. Quindi non vi preoccupate, ci saranno tutti i link. Incominciamo subito. Allora, ogni progetto open source utilizza il termine good piece bugs. Ovvero, da dove comincio? I sviluppatori ogni tanto dicono guarda questa è una patch così facile che se ci metto a farla io tolgo la soddisfazione a qualcun altro di fixarla. Su WordPress ci sono. Di solito il problema è che i ticket vengono marcati nel giro settimana qualcun altro l'ha fatti. Quindi se voi vi aggiungete qui, vedete, oh guarda questo non lo segno, lo faccio la settimana prossima, faccio un attimo di tempo, la settimana prossima qualcuno l'ha fatto. Quindi di solito è utile per dare un'occhiata a capire insomma un po', puoi vedere anche gli altri come l'hanno risolto. E di solito quelli che sono marchiati così c'è anche qualche mentor da parte di WordPress che ti aiuta a farlo. Ovviamente in inglese parliamo di questo in inglese, però noi siamo su Slack, la gomma italiana è su Slack, c'è il canale Dev che ho creato tra l'altro io, quindi potete rompere le scatole lì per chi ha qualche difficoltà. Quindi, questi sono i good piece bugs. Quindi, certe volte li trovate e qualcuno se li ha segnati ma non sono stati fatti, succede. Quindi, questa è una delle liste in cui volete poter guardare quando tornerete a casa. Qui, io qui ho piaciuto morire altri giorni già, quindi ho cercato, I can't believe, diciamo per chi capisse la GIF, Neds Refresh. Perché, come abbiamo visto oggi, WordPress è vecchiotto, ha 13 anni di più forse. Che cosa vuol dire? Che i ticket esistono da 13 anni. E quindi voi avete un archivio di 13 anni di ticket. E cosa succede? Che qualcuno apre un ticket, qualcuno fa la patch, qualcuno aggiorna la patch, qualcun altro aggiorna la patch, qualcun altro aggiorna la patch. Nel frattempo passano otto anni e la patch non viene mai approvata perché succede tra una release e l'altra di WordPress che succede il feature freeze. Ovvero, dicono, viene rilasciata ad aprile la nuova WordPress, dicono, a febbraio, stop. Fixiamo solo bug presenti nella 4.5 che c'è sviluppo. Non fixiamo, non lavoriamo su altre patch che non sono state revisionate, eccetera, eccetera. Quindi nel tempo, sul repo WordPress si sono ammucchiati, non dico migliaio, ma qualche centinaio di ticket con patch già pronte. E lì è un po' uno spreco. La maggior parte delle volte questi ticket sono veramente molto semplici, tant'è che io ho iniziato così. Ho preso un ticket che era fermo da otto anni e l'ho risolto, cioè ho aggiornato il codice attuale della release di WordPress per la 4.4 ed è stata accettata. Ho dovuto fare il codice di qualcun altro, tanto che l'ho reso compatibile per l'ultima. Però ha cominciato, ho capito che funziona. Oggi utilizzeremo uno di questi ticket anche perché, siccome siamo in live, è più facile, insomma, lavorarci. Però, è molto importante perché io lo consiglio, visto la mia esperienza, per chi conosce un po' di programmazione da qui, può cominciare a provare qualcosa. E ve lo dico da programmatore, da chi si smonta il core, vedere tutto questo ben di Dio, direi quasi, di ticket che sono abbandonati e nessuno li aggiorna perché finché non vengono aggiornati, ovviamente i revisori di WordPress non è che gli danno tanto conto perché ci hanno da gestire gli altri migliaio di ticket. Quindi se tanto qualcuno dice me l'aggiorna, almeno io la provo alla patch. Quindi, siccome noi siamo tanti, ognuno fa quel piccolo contributo per tutti gli altri. Quindi qui ce ne stanno parecchi. L'ho beccato uno per fare un esempio, ieri durante il Contributor Day lo volevo risolvere, volevo aggiornare la patch, vado a controllare il codice, era stato già fatto. Può darsi che nel tempo, quel ticket era di nove anni fa, qualcuno abbia avuto la stessa cosa, è stato aperto un altro ticket e nel frattempo l'hanno risolto ma questo ticket è passato di vista perché succede, quando ci sono migliaia di ticket, può accadere. Quindi, e ho che fatto? Ho detto ha chiuso perché attualmente è già stato fatto. Quindi neanche ho dovuto perdere tempo, però intanto che ho fatto ho chiuso un ticket. Immaginate quanti di noi facessero questa cosa quando si alleggerirebbe il peso per i sviluppatori di controllare i ticket. Perché se ci sono nove patch, qualcuno le deve guardare a nove patch. Guardare, sì, non leggere, provarle. Che non è poco. E poi le no patch, che possono essere da implementare la super ultra funzione a mi serve da fixare il bug. Quelle che di solito non sono assegnate, però è stato detto qui bisogna integrarla. Quindi se qualcuno ci fa la patch, intanto noi la studiamo. Vediamo come si può fare, dove c'è da lavorare, se serve un feature plugin, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi pure qui, se uno può, qui ce ne sono tanti, tanti, di tutti i tipi e difficoltà. Quindi lo tengo come ultima spiaggia. Quando io mi annoio, non so che fare, do un'occhiata da qui. Io sono fatto così. Quando ho quei cinque minuti. Però parliamo dell'ambiente di lavoro. Allora, per trovare qui la gif è stato un po' difficile perché, come ho detto, l'ambiente di lavoro non è la cosa importante, di più. Senza di quello, non si riesce a fare niente. Quindi se noi siamo agevolati, ci sono più contributi, che non è poco. Io lo dico da contributor di diversi progetti open source, oramai, ad oggi, grazie alle nuove tecnologie di virtualizzazione, siamo molto semplificati in questo. potrei farvi l'esempio di contribuire a progetti come Firefox, che si tratta di anche 30 giga di sorgenti, che poi diventano 30 mega, però compilati. Cosa significa scaricarsi 30 giga di sorgenti e compilarli su una macchina dove ci mette nove ore? Un sacco di tempo perso. Quindi avere un ambiente di lavoro che almeno ti dice, sai, almeno ci serve, devo solo scaricarmi 30 giga al limite una parte, non è una cosa malvagia. Quindi l'ambiente di lavoro ti salva la vita, ma perché quello che vedremo oggi non è utile solo per contribuire. Anzi, noi nella mia agenzia e tante altre lo utilizziamo per lavorare. E siccome era stato pure scritto sul sito per il contributor day, parliamo di Wearing Vagrant Vagrants, che in italiano è VVV, che pare, perché noi non diciamo WV, WV, WV. Quindi lo troverete sempre come sigla, che certe volte non sciogli lingua. Comunque a parte questo. E che cosa è? È una macchina virtuale per Vagrant. Quanti di voi conoscono Vagrant? Almeno alzate, non potete. Oh, ecco. Ok. Per chi non lo sapesse, si tratta di un programma che serve a semplificarti la vita con le macchine virtuali, che in automatico ti permette di installare i programmi lì dentro, di solito per gli sviluppatori, a tempo zero. Nel senso che tu dai un comando, lui in automatico sai, deve scaricare WordPress, deve scaricare Node.js, deve scaricare quello, 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 installarlo, fare quello, 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 e tu ti ritrovi dopo una mezz'oretta e dato che sei fatto il caffè per chi fuma la sigaretta, tutto fatto. Che bello. E Vagrant è quello che ha utilizzato principalmente tutti i sviluppatori di WordPress. Quindi sta utilizzando qualcosa che lo utilizzano tanti e che sei sicuro che gli spari con un carro armato e il carro armato si fa male. E funziona, perché vi permette di avere tutta una bella serie di cose che gli sviluppatori che conoscono queste cose che vi faccio vedere, gli piacerà tanto. Beh, fino a qui è un server lanto, che mi offre. Niente di nuovo. Però è tutto già bello configurato. E cosa significa? Beh, abbiamo qualche soluzione, già vedi xdebug, capisci, si parla di sviluppo. Però non è obbligatorio usarla, ovviamente. Poi cominciamo con la roba da sviluppatori, che questa qui da UBA diventa una dipendenza, specialmente mailcatcher. Qui noi abbiamo gli strumenti che ci mettono a gestire tutto quello che gira su questa macchina. Pensate agli sviluppatori. Tutti conoscerete i PHP admin. C'è anche il supporto per mailcash integrato, webgrind per il supporto xdebug proprio per le cose complicate, io non l'ho utilizzato. E mailcatcher invece è una novità dell'ultima versione. Quante volte a voi vi è successo che dovete debuggare qualcosa che invia un'email? E voglio sapere che cosa c'è nell'email, ma voi avete messo l'email di test che non esiste, quindi non ricevete niente. O ci mette 20 minuti perché non ti sa come gli girano male al filtro anti-spam. Mailcatcher non è altro che un programma che traccia tutte le mail che vengono inviate nel server locale. Quindi vedremo una paginetta web lì dentro, vedremo tutte le mail che girano, che sono state inviate, quindi tra sviluppatore è perfetto per fare il debug, non dovete neanche star perdere tempo. Ed certe volte vi salva un po' la vita. E qui parliamo subito in zona PHP. PHP unit, conoscerete gli unit test, WordPress è suoi ovviamente, molti plugin hanno i suoi, varie in www, integra ovviamente PHP unit e voi potrete utilizzare PHP unit anche di WordPress direttamente, eseguirle eccetera. A WP Client, che è una droga pure quella, alla fine diventa un po' tutta una droga. Però PHP code sniffer, quella è la prima droga che uno conosce quando comincia a programmare PHP che ti segnala tutti gli errori che stai scrivendo nel tuo codice. E non è cosa da poco, perché vi salva, sai, dove ho messo quella parentesi quadra? Perché quello non è sempre quelle linee standard? Che quando si contribuisce al progetto Pezuz, diciamo, è la prima regola. Infatti la prima cosa che dopo faremo è leggere le linee guida. E composer perché verranno scaricati all'automatico tutti questi software, quindi a qualcuno che gli serve già lo trova dentro la macchina virtuale insieme a tutto il resto. E qui la chicca, perché fino adesso vi ho detto cose che potete installare autonomamente. La chicca è questa di avere WordPress table, WordPress trunk, WordPress trunk con i file dev, WordPress trunk con i file compilati. Che cosa vuol dire? Che voi in automatico in questa macchina virtuale avete quattro siti già pronti, funzionati e configurati, che utilizzano quattro versioni di WordPress. E che ce faccio con quattro? Pure io all'inizio dicevo che ci faccio con quattro? Poi mi sono reso conto che non mi bastavano. Perché parte allora trunk, provo le ultime novità. Poi dici, dev files, perché così provo i file non minificati. Sai, dalle volte ti capita quelle loro redigiquiri con i CSS che si incrocia con backbone e tu dici poi ho spesso io male, punto e virgola. Però così è bene puoi capire dov'è. Build files sono invece quelli compilati. Quindi avete quattro siti già pronti, funzionanti. Che non avete anche la password su www, ve lo dico per chi si scorda sempre di leggere il redmi. Admin e password di tutti i siti. E la password. Questi sono i dati di accesso. Il bello però è che utilizzando un altro script che si chiama variable barring, vv, solo dv. Quindi potete capire a un certo punto a voce cosa può diventare un po' obbligato. Vi permette in automatico di creare dentro vvv quello con 3 un sito. Quindi voi in automatico ogni volta che si tratta di fare un plugin, digito il comando quello con 2v, create, mi dico come si deve chiamare il sito. In automatico mi chiederà quale versione di wordpress vuoi installare? Vuoi dei contenuti di esempio che non è cosa da poco perché te ne genera un migliaio. Vuoi multisite? Vuoi il supporto debug? Vuoi tolti i plugin di default? In automatico li prende, installa wordpress, configura admin e password e già ce l'avete pronto. Quindi a seconda della vostra linea avete il vostro sito wordpress. Quindi io certe volte me ne ritrovo con una ventina però ce n'ho uno specifico, non mi sporca il computer stesso perché è una macchina virtuale. Il bello di vari, di vu, mannaggia, vu 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 vu, è che è una macchina virtuale e siccome ha un bello script che viene eseguito voi potreste anche domani la macchina virtuale ci ho fatto troppi casini perché sono entrato dentro, con un comando cancellare la macchina virtuale. Siccome viene fatto un backup anche del database perché ogni volta che voi chiudete questa macchina viene fatto un database del database e locale che vi permette di condividerlo su Dropbox per dire, su Git, su qualcun altro e ovviamente tutti i file sono sul vostro computer condivisi con la macchina virtuale, quindi se voi cancellate il file della macchina virtuale, eseguite Vagrant, l'avviate, l'automatico, carica tutto i file di configurazione Gainix, quindi voi potete condividere i vostri file con i colleghi, ma non avete bisogno della stessa macchina virtuale perché ci sono i file, che non è cosa da poco poi la so, io la dico, ho detto come lo posso spiegare alla dashboard, perché voi partite che la dashboard di base è una schifezza contiene solo i link, però è una pagina bianca, sai di quelle del modem 56k che neanche c'è un'immaginina brutte, ma brutte brutte siccome è bello open source si possono installare dashboard faiche perché fighe non basta per dirlo, adesso ve la faccio vedere come ho detto poi il bello è che ogni sito ha il suo file di log, infatti io mi sono fatto per dire un alias per il bash, in automatico gli dico qual è il sito solo e lui mi apre sulla console direttamente il log php quindi neanche devo fare il classico print error schifoso, che non sai dove te lo piazza ce l'ho un bello file di log a parte che non è una grande novità, però ce l'hai per ogni sito quindi adesso vi faccio vedere un attimo un'azione per chi non lo conosce la, come dico io la super powerful dashboard questa al momento è quella che consiglio, che fa veramente di tutto, altro che cipane qualcuno potrebbe dire che cosa fa? beh abbiamo il laser abbiamo questa parte qui per il caching di tutta questa roba perché voi vedete qui che questo vi lista tutti i siti che voi avete la versione potete ovviamente cliccare su visit andrete su frontend grande admin profiler vi attive Rax debug teams in automatico dentro questo pannello vedrete i temi installati plugin idem e potete aggiornarli direttamente da qui vi permette anche di fare il backup database di quel sito il migrate ha la chicca di fare anche il search replace vuoi dire allora questo database questo sito lo devo portare in produzione però ovviamente il locale hanno si chiamano coputo dev come ho chiamato i battezzati io è locale posso chiamarli anche pinco pallino e online non si chiama pinco pallino avrete un bel campo che vi dice come si deve chiamare il sito in automatico vi fa replace lui vi da il database già bello pulito predisposto è diventata un'altra droga alla fine sono un drogato di queste cose e errori vi fa permette di avere questo blocco qui sotto degli errori del sito che però ci ha aggiunto adesso anche la ricerca e poi c'hai i link e vari servizi integrati che vi permetteranno veramente di svoltare quindi voi tutta una macchina virtuale vi offre tutta questa imparata non vi deve preoccupare di niente al limite di preoccupare di configurare il vostro editor per sfruttare i tool che vi offre una macchina integrata però che voi dovete avere sulla vostra macchina locale e siete liberi ovviamente di utilizzare qualunque editor perché questa è una macchina virtuale linux base ubuntu voi non avete neanche bisogno di entrare dentro dei vssh e dare qualcosa perché è già bella pronta fuori io non l'ho mai fatto non vi serve perché avete i vostri file e quindi vi ho presentato adesso vvv l'ho detto bene stavolta che vi permette insomma di fare di tutto quindi i riferimenti questo è un articolo che ho scritto io che vi spiega un po' come lo utilizzo io ovviamente in italiano ovviamente e con un po' di consigli come installare quella dashboard qualche consiglio e via questo invece è un webinar che ho fatto con i miei colleghi con skills and more che vi spieghiamo un po' come utilizzarlo durante un'ora e mezza in italiano per chi vuole capirne un po' di più però parliamo di standard perché un progetto senza standard non vale un tubo perché ti trovi che dieci persone lavorano ognuno al suo modo diventa un caos specialmente quando sei in un'agenzia quindi wordpress vi fornisce standard da seguire che bello è che sono scaricabili voi potete configurarli nei vostri editor sono online voi potete anche leggere però se ve lo fa l'editor di dirvi qui non è scritto bene e quando voi state lavorando su tanti file non è male specialmente se tu utilizzi questi standard anche per lavorare sui plugin utilizzi questi standard wordpress che non è male anche perché te li impari il codice è uguale a quello degli altri quindi ci sono delle regole dentro wordpress per sviluppare dai tab posto degli spazi mentre solitamente si vogliono gli spazi per il core però voi siete di brevemente utilizzare qualunque standard che basta che seguite lo standard delle vie di wordpress però per contribuire a wordpress dovete seguire queste regole però le potete scaricare e configurare sul vostro editor quindi ce ne sono diverse se sono utili che mi dilungo su queste anche perché come ho detto il tempo che abbiamo è quello che è quindi parliamo di keywords che all'inizio tu dici ma faccio prima impararmi le tabelline perché dopo un po' sono un po' tanti quindi vi ho fatto un'ultra selezione di quello che a voi vi potrebbe interessare ovviamente ovviamente le basi needs patch qualcuno che si deve divertire a fare la patch qualcuno si è divertito a fare la patch e significa che bisogna dargli un feedback vedere ah funziona bene no guarda qui forse è meglio se la fai con la eccetera però forse è il caso anche che qualcuno la verifica è anche il caso che qualcuno fa unit test ovviamente quando fate una patch non dovete per forza fare unit test il testing sì ovviamente unit test potrebbe anche fargli qualche altro contributo quindi non vi spaventate a questo infatti io non mi sono spaventato non l'ho ancora mai fatti però tanto faccio la patch poi qualcun altro tanto lo fa però è tanto da qualche parte si copeggia altrimenti quel ticket potrebbe rimanere fermo anche altri 8 anni da qualche parte finché qualcuno non smuove un sasso il sasso non si muove qualche volta potrebbero dire forse mi ci metti un po' di commenti dentro perché non si capisce niente se qualcuno legge il codice i commenti sono belli quindi qualcuno ci devi mettere ma forse è bello che se non ha funzione qualcuno anche faccia una pagina sul wiki e quindi adesso proviamo un ticket allora mi sono detto come ho detto sono tanti ticket che cosa gli faccio provare quale provo a fare quindi mi sono detto allora io ho fatto un piccolo link abbreviato che ho fatto una selezione di ticket quindi per chi domani perché stasera non ce l'avrete tempo vuole dire voglio provare a fixarne uno vi ho fatto una selezione io di ticket ta 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 al momento sono 26 ticket l'ho scelto io come vedete alcuni hanno anche quattro cifre quindi vuol dire che hanno almeno otto anni sono tutti ticket che hanno o la patch o non ce l'hanno sono molto molto semplici non richiedono neanche troppo impegno però sono ideali per chi vuole incominciare quindi vi ho già fatto un elenco quindi voi potete divertirvi tra questi qui senza che ve lo andate a cercare allora mi sono detto adesso quale presetto io oggi allora io oggi mi sono messo lì ho fatto la scelta e ho deciso questo qui quindi se internet è con noi caricheremo la pagina allora vediamo già che questo ticket ha 5 anni ci sono ben 6 patch diverse l'ultima di 21 mesi fa e non è stato mai inserito quindi vediamo che alla patch man needs a refresh qualcuno deve andare a riflesscarlo in modo che sia compatibile alla versione moderna di wordpress perché inutile ve lo dico cambiano i nomi dei file cambiano la pola riga cambiano il codice interno vanno riaggiornati quindi uno dà una letta alla storia perché serve per capire perché ci sono le discussioni quindi vediamo un po' la storia gli anni passano passano vediamo qualcuno aggiunge qualche cosa e dice guarda dobbiamo metterci in azione qualcun altro ne parla qualcuno che dice non lo commettiamo più perché dobbiamo discutere un altro po' o è troppo tardi qualcuno dice dopo 3 anni ne sono passati 2 a caso che la rifreschiamo qualcuno dice ho fatto un'altra alternativa qualcuno dice vi date un feedback e toglie il tag nel frattempo qualcuno dà il feedback e qui e non è neanche tanto lungo certe volte sono lunghi qualcuno dice lo mettiamo nella 3.8 chi se la ricorda? ecco allora diciamo muoviamo nella 3.8 perché ha pensato per la 3.7 e passa un altro anno arriviamo che qui dicono forse è il caso che la rifreschiamo quindi si prosegue la rifrescano due anni fa la rifrescano la rifrescano un'altra volta ha preso tant'aria arriviamo qui dicono spostiamo è una pezzata per la 4.0 mettiamola più in là e sarei a un certo punto e dicono 4 mesi fa me la rifrescate un'altra volta allora se nessuno la rifresca nessuno la commenterà mai e non poterà mai dentro Wordpress quindi siccome l'ho vista ho detto facciamo qualcosa di semplice vi potete voi scaricare scusate potete scaricare da qui su quell'elenco che avete visto qui in alto tutte le patch la viscozio di partita dalla prima in questo caso scaricare direttamente l'ultima e quando ve la scaricate è un file di testo diff che non ci si capisce niente l'effetto che voi avete quando l'aprite e dite già tanto che il mio editor purtroppo dovete utilizzare NetBeans perché oggi ha deciso di fare le storie e questo editor qui su KD e vedete che mi colora bene il codice mi dice guarda la partita rossa sono quelle ok sulle parti rossa sono quelle che è ora che si cambiano e infatti vedete col più vengono marcate tutte quelle nuove il bello è che già c'è la documentazione quindi neanche dovete dire devo fare la documentazione no voglio solo aggiornare questo codice quindi come vedete più ci dice questo è il codice da mettere però qual è il problema siccome il bello delle patch è che si chiamano patch vuol dire che io in un comando mi mette la modifica senza che faccio il copia e colla il problema è che noi in questo caso troviamo con una patch che ci ha scritto di come abbiamo visto di due anni fa quindi se noi proviamo a seguire questo patch ci potrebbe creare casini perché nel tempo il codice Wordpress è cambiato le linee non corrispondono quindi vi trovereste con Wordpress un casino quindi conviene fare qui il classico copia e colla solo per evitare anche perché in questo caso sono solo dieci righe non bisogna preoccuparsi più di tanto e quindi per chi dice qual è la differenza rispetto all'altro questi file diff vi permettono di fare anche questa cosa se voi utilizzate un programma che mette di dire le differenze vi permette anche di capire cosa è cambiato per chi insomma vuole capirlo graficamente ve lo faccio solo per farvelo vedere quindi adesso noi io nel frattempo ho sbaglio il tasto ho aperto il file e ho scoperto che ancora esiste perché nel tempo potrebbero cambiare i riferimenti il codice si riorganizza perché si evolve il file esiste ovviamente la riga non corrisponde più a quella però manca ancora questa integrazione quindi ho trovato come vedete la Tor Template io qui ho scelto la Wordpress Develop ovvero la Trunk delle disponibili di www ecco qui il codice vedete qualche differenza rispetto alla patch no il codice è lo stesso tanto che sono cambiato il numero di righe in cui si fa riferimento quindi potremmo anche applicare la patch brutalmente qui dentro e lo possiamo fare perché come abbiamo visto la patch non fa altro che aggiungere un filtro la maggior parte delle ticket che nez refresh è di aggiungere un filtro o un hook quindi cose che non fanno mai male specialmente quando si tratta del back end che ce ne sono veramente poche quindi noi potremmo anche adesso vi faccio l'esempio qui fare il classico copia e colla un attimo invito il punto prima del for each siccome fate il copia e colla c'è il fastidioso più quindi potremmo utilizzare il classico canch per toglierli dalle scatole poi abbiamo in questo caso potremmo dire anche che è stata fatta un'ottimizzazione qui dentro proprio lo scopo del tog lo lasciamo un attimo perdere un'ottimizzazione per chi ve l'ho visto ci sono avere dentro al for each la dichiarazione della query potrebbe a ogni giro potrebbe richiedere di fare quella funzione in questo caso una query quindi potrebbe essere eccessivo quindi solitamente si sposta in una variabile in modo che venga messa a parte non venga eseguita ogni giro quindi è solo un'ottimizzazione potremmo dire da programmatore che può essere fatta a parte come vedete io qui ho messo la patch aggiunto un filtro e le variabili hanno lo stesso nome non sono cambiate nel tempo ok non sono cambiate nel tempo quindi ho contribuito a wordpress facendo questo però ancora non ho salvato e ho aggiunto un filtro che servirebbe a filtrare l'elenco degli utenti generati dalla funzione vp list authors voi potreste dire voglio che alcuni non si nascondano adesso avete il filtro per farlo che potrebbe essere comodo in alcuni contesti perché nel resto della fusione non c'è dovreste voi farvela a mano e poi cancellarla e farvi voi la vp query eccetera ma se avete la fusione siamo tutti belli che contenti quindi adesso noi che faremo salviamo quindi mi funziona solo il locale per questioni di brevità non la testo perché come avete visto è veramente irrisoria come patch in questo caso non ti sento ah si non è stato tabulato l'editor scatti diciamo che io ce l'ho configurato tutto a spazi e quindi con wordpress vattab non ho avuto tempo per configurare tutto come volevo mi era sfuggito questa cosa sai si sarà dentro args sicuramente eccola quindi bisogna correggere qui ecco nel tempo abbiamo scoperto qui c'era un'altra cosa ovviamente adesso io perché vado veloce insomma non sto facendo caso a tutti questi dettagli però voi dovrete farla perché se no gli sviluppatori vi diranno guarda qua ti sei sfuggito qualcosa anche perché come ho detto in queste brevità non la testo anche se sarebbe servita a quanto pare ecco ho aggiunto il supporto risalvo allora torniamo alle slide se becco lo schermo giusto ok ho salvato il file ci siamo sporcati le mani adesso dobbiamo fare l'unica linea di comando che dovrete dare per generare la patch ok mi devo ultrasbrigare con questo comando sul vostro computer l'SVN viene generata direttamente la patch qui vedete che ho avviato vagrant eccetera mi ultrasbrigo SVNDIF non fa altro che fare il file DIF che avete visto di prima vedete è lo stesso con questo comando qui io non faccio altro che dirgli che me lo deve salvare allora utilizzano lo standard di dire che il nome della patch è il numero del ticket così mi ricordo di cosa sto parlando oh si è alzato all'improvviso allora il numero è il ticket è 17025 la ritaglie 17025 però utilizzano anche lo standard come avete visto che ce ne sono 6 quindi io qui invece di fare 6 metterò 7 perché così vi permette di tracciare la patch facciamo .7 .diff se adesso io faccio l'S da qualche parte eccolo qui ha creato la patch che adesso io da qui come sono rimasti solo 5 minuti non lo carico lo faccio dopo un attimo di calma potete scrivere caricare qui togliere il tag needs refresh perché l'abbiamo rinfrescata caricarla mettere una descrizione del dire l'ho rinfrescata ho fatto anche quella correzione lì e la pubblicate submit changes quindi questo è come fare una patch quindi noi dobbiamo inviare la patch ecco abbiamo visto succede che spesso bisogna spiegare la differenza perché adesso in questo caso era una needs refresh aggiorniamo le keyword aspettiamo bisogna aspettare partecipare ticket oh l'ho fatto qualcuno me lo commenta lo scrivo su slack qualcuno me lo revisiona aspettiamo poi arriva la 4.4 e poi vi trovate tra i contributor qui da qualche parte perché avete contribuito con un refresh se è stata ovviamente approvata qui tra qualche parte vedete c'è anche il mio nome eh era in ordine a far vedere quindi sarà la giugge però lo ritrovescate il post e vi trovate lì che risultate tra i contributor e diventate un core contributor e vi trovate che dopo che è stato approvato quel simboletto là sul profilo a parte la mia grafica lì con la con la freccia bellissima eh vi ritrovate questo ovviamente io qui vi lascio il link al manuale che dovete leggervi che vi dice le regole come funziona wordpress perché si fa quello con la quindi non mettetevi subito adesso a fare la patch leggetevelo questo è un always on list che ho creato io con i consigli con alcuni snippet già pronti presi da plug in eccetera che aggiorno continuamente per i sviluppatori per chi vuole insomma approfondire un po' come si fanno certe cose quindi vi invito a partecipare a leggere si può dare commenti eccetera questo è il link da cui mi sono ispirato a farlo che ho utilizzato e vi spiega tutto quanto anche un po' più nei dettagli per chi vuole vedere tutti i vari passaggi e approfondire ancora di più anche grunto tutta questa parte qui quindi io sono arrivato alla fine siccome il tempo è proprio finito se ci sono domande bene se no me le fate più là vai ho visto che www installa nginx come si può fare anche con apache o www open source quindi c'è chi ha fatto un fork che invece di avere nginx apache però non può utilizzare variable quell'altro lì con v perché non supporta quello lì però potrei avere anche la versione che utilizza internamente apache ma ti posso assicurare che wordpress con nginx funziona lo stesso si si tranquillamente ci ho lavorato fatto patch ho lavorato a diversi siti per i clienti plug in senza problemi anzi è più veloce perché così quindi funziona tranquillamente non hai problemi perché alla fine è il sito in automatico che viene generato web server quindi tu sul sito online dovrai solo fare generazione per malig che ti genera il file ht access che serve ad apache devi fare solo che il passaggio è lì tre domande? va bene ciao